Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi questa busta sorpresa di Pupsi Surprise Unicorn. Come potete notare le buste sono due, ma una è già aperta, perché questa era appunto quella dell'altro video dedicato ai Pupsi Surprise Unicorn che avevamo aperto insieme. Se volete più informazioni proprio sul prodotto in generale, vi consiglio di andare a vedere quel video in cui comunque avevamo trovato questi due personaggi. Allora, avevamo trovato questo, molto molto carino, e questo. Lo tengo così perché non vorrei farlo cadere. Ecco, eccolo qua. Anzi, giochi e ci siamo, direi di spostare la busta dell'altro video e di tenere soltanto i due personaggi qui di lato. Oggi apriremo un'altra busta dei Pupsi Surprise Unicorn e scopriremo cosa c'è all'interno. Non so, forse sarà una nuova collezione, troveremo nuovi personaggi, insomma, vedremo. Per questo io direi di iniziare subito aprendo proprio la busta. Allora, ok, all'interno ci sono un sacco di cose. Vediamo cosa c'è nella busta. Wow, allora, abbiamo trovato una bustina di questi Cutie Tootie Surprise. Ovviamente dei Pupsi. Oddio, sono delle cacchine. Oddio, che bella. E all'interno si può trovare, all'interno di questa cacchina, uno di questi quattro slime. Quello Crunch, quello Bouncy, poi quello Water, quindi quello Acquoso praticamente, e poi quello Marshmallow. Sinceramente io spero di trovare questo Marshmallow perché sembra morbidissimo. Allora ragazzi, si apre da sotto perché in questo modo noi possiamo prendere tutto quello che c'è all'interno della bustina e poi richiuderla. Quindi qui dentro, una volta aperto il nostro personaggio e trovato appunto lo slime che c'è all'interno, possiamo conservare lo slime e quindi non doverlo buttare proprio all'interno della bustina. Allora, qui mostra la collezione, quindi i vari personaggi che possiamo trovare e qui sotto appunto gli slime. Allora, di regola, guardate quanto è carina questa cacchina verde con questi occhioni e che rilascia un sacco di brillantini, ma un sacco. Infatti la mia scrivania è già piena. Comunque di regola noi lo dovremmo tagliare con le forbici, però sinceramente un po' mi dispiace. Ok, finalmente sono riuscita a tagliarlo. Allora, quindi... Ok, ce l'ho fatta. Oddio! Allora, togliamo lo slime perché appunto oltre allo slime poi troveremo anche un personaggio che si trova qui dentro. Oddio, questo che è tipo, eh? Vediamo... Penso Bonesy, anche se non c'è saltitante. Penso sia questa la traduzione in italiano, non lo so. Vabbè, insomma, penso sia proprio quello, anche perché è l'unico rimasto. E come vedete è uno slime abbastanza solido. Sembra più una pasta, tipo quelle paste che ho sempre recensito che si trovano in edicola. Comunque, come vedete, è di questo viola, molto bello. È super glitterata, tanto per cambiare, come se non ci fossero già abbastanza glitter sulla mia scrivania. E poi ha queste mezzelune all'interno. Ok, poi ovviamente bisogna modellarla un po' per renderla più morbida. Comunque, vediamo subito che personaggio abbiamo trovato. Oddio, raga, sembra carinissimo. Che bello! Allora, fa parte dei Doody's of the Forest. E vediamo. Allora, è tra l'altro uno ultra raro. Non pensavo di trovarne uno ultra raro. Ed è assolutamente carinissimo. Cioè, ragazzi, guardate quanto è carino. Tra l'altro ho anche le ciglia vere. Bellissimo. Ed è tenerissimo. È tipo un tronco d'albero. Sì, proprio un alberello con qualche fogliolina. Allora, mettiamolo di lato e vediamo cos'altro c'è. Attenzione, ragazzi, c'è un'altra lattina di quelle che avevamo trovato anche nello scorso video. Vedete com'è quella che contiene i personaggi più grandi. E quindi direi di aprirla. Ok, allora. Eccoci qui. Ok, qui c'è anche una specie di checklist dove mostra i personaggi. Qui noi avevamo trovato questo e questo. Quindi speriamo di non trovare un doppione. Allora, qui abbiamo le varie polverine che servono per creare appunto la cacchetta. Cioè, perché servono per creare il cibo da dare al nostro personaggio, al nostro poopsie. E che poi diventerà la cacchetta slime. Poi, in questa bustina c'è invece il cucchiaino. Molto molto carino. Vedete che alla fine è anche questo unicorno. Questa faccia da unicorno. Che poi non è proprio, diciamo, un muso. Ecco. E poi quest'altra spatolina per poter mescolare. Allora, in quest'altro... Oh, che carino! Abbiamo la nostra siringa per prendere l'acqua. La poopsie. Al posto di Pepsi, la poopsie. Davvero geniale. E infine qui abbiamo il personaggio. Allora, vediamo. In base alla nostra siringa dovremmo trovare... Questa qui. Oddio, che bella. È una tigre. No, è bellissima, ragazzi. Beh, spero sia quella. Oddio, sì. Raga, è bellissima. No, veramente. Questo personaggio è assolutamente stupendo. Mi piace un sacco, è carinissimo. Poi io ho sempre avuto un debole per le tigri. Non so perché, mi sono sempre piaciute. Quindi è assolutamente bellissimo. Poi guardate che ciglia perfette. Davvero. Le invidio un sacco perché le mie ciglia sono un pochino strane. Ed è bellissimo. Comunque, adesso direi di provare a far fare al nostro personaggino la cacchetta. Infatti, qui abbiamo un bicchiere con l'acqua e una ciotolina nella quale noi proveremo a far scendere lo slime cacca. Cacchetta, diciamo così. Sono un po' preoccupata perché tutte le volte che provo a fare una cosa del genere e provo a far fare al nostro personaggio la cacca, finisce male, nel senso che non ci riesco mai. Quindi speriamo che questa volta vada bene. Allora, prima di tutto, togliamo il ciuccio e teniamo il nostro personaggio orizzontalmente. Perché all'interno della bocca c'è una polverina che è mischiata con l'acqua che adesso andremo a mettere qua dentro. Allora, dobbiamo fare 20 mm. Non so, penso che questi vadano bene. Vabbè, proviamo dai, ormai. Adesso rimettiamo il ciuccio in bocca e lo dobbiamo scuotere. Ok, penso che tutto questo scuotere basti. Allora, in questo caso il nostro personaggino non ha l'apertura a forma di cuore sotto, diciamo sul sederino. Quindi significa che invece di fare la cacca, farà fuoriuscire lo slime dalla bocca. Quindi togliamo il ciuccio e adesso dobbiamo schiacciare semplicemente la testa. Oddio, sta uscendo, sta uscendo, raga. Oddio, non sembra neanche tanto brutta. Ok, così penso potete vedere meglio. Oddio, è di questo blu abbastanza scuro. Wow, non ci credo che mi sia venuto così bene. Ok, ragazzi, è incredibile che non abbia rovinato tutto. Ma non è ancora finita perché adesso dobbiamo versare lo unicorn magic, questa qui, questa polverina. Ok, lo dobbiamo aggiungere poco alla volta. Ok, ragazzi. E' diventata più o meno così e adesso per concludere dobbiamo aggiungere anche questa polverina che come vedete sono glitter. Ok, alla fine ho rinunciato a utilizzare il cucchiaino e ho utilizzato le mani e devo dire che non è venuto male, anzi mi aspettavo un risultato terribile. E invece è il primo slime, è il primo di questi poopsie che è venuto abbastanza bene. Non proprio perfettamente, però bene, dai, carino. Ok, ho messo qui di lato il nostro slime che più o meno è uscito e di questo sono felice perché per una volta finalmente sono riuscita a fare uno di questi poopsie. Comunque non è finito perché nella busta c'è ancora un altro di questi cutie tootie, questa volta giallo. Ok, ecco qui la nostra cacchetta gialla, anche questa super super morbida. Ok, apriamola sempre da sotto perché non voglio rovinarla perché è troppo carina. Ok, ragazzi, penso sia proprio con l'acquoso e penso lo si possa capire. Ok, oddio no, mi sto sporcando tutte le mani. Ok, abbiamo trovato questo grande slime acquoso che mi ricorda tanto i primi slime che avevo recensito. Mi ricordo che il primo fu proprio quello Schifidol, se non mi sbaglio, ed era proprio così acquoso. Quindi diciamo che gli slime sono nati con questa forma, con questo stato acquoso. Vediamo che personaggio abbiamo trovato. Oh, un draghetto, che carino! Vediamo che... Allora, partiene a questo junk foodie do this e questo è uno normale, uno comune. Che carino! Però sarebbe stato carino trovare, vedete, per esempio, o questo orsetto, o questo panda, che rappresentano alla fine i personaggi che avevamo trovato nello scorso video, però in miniatura. In ogni caso, ecco il personaggio che abbiamo trovato ed è carinissimo, con queste ciglia lunghissime, mamma mia. Un draghetto davvero carinissimo. Tra l'altro le mie mani tra lo slime di prima, questo slime, i glitter, davvero non si possono più definire mani. Comunque non ve l'ho detto prima, ma vi voglio scusare per la mia voce abbastanza nasale, ma anche se ormai gli sono arrivate finita la scuola, è quasi arrivata l'estate, io mi sono raffreddata, perché giustamente quando arriva il momento di andare al mare, io mi raffreddo. E infine, come ultima cosa che si trova nella busta, abbiamo un'altra confezione degli sparkly critters, quindi un'altra lattina. In questo caso direi, visto che abbiamo già provato l'altro personaggio e comunque siamo riusciti a fare il nostro slime, direi di non provare a farlo anche con questo, ma di limitarci a vedere il personaggio. Comunque, sinceramente, mi piacerebbe trovare o questo, questo coniglietto, la volpe, sembra molto carina. Insomma, anche questo gatto persiano. Vabbè, dai, vedremo. Ok, raga, allora, eccoci qua. Vediamo che personaggio abbiamo trovato. Vediamo, vediamo, vediamo. No, raga, non ci credo. Ma questo, ragazze, questo è lo stesso, ragazzi, questo è lo stesso che abbiamo trovato nell'altro video. Non ci credo, cioè, veramente abbiamo trovato un doppione. Ma dai, infatti questa mi sembrava familiare, la Coca-Cola Cherry. Ma dai, sono triste, abbiamo trovato un doppione. E comunque è molto carino, però mi sarebbe piaciuto aggiungere alla mia collezione qualche personaggio. Perciò, ragazzi, che vi posso dire? Purtroppo il video è finito così e abbiamo trovato un altro doppione. In ogni caso, questi personaggi, diciamo, questo tipo di poopsie li avevamo già visti insieme nell'altro video che, se volete, potete andarlo a vedere. Anche se nel fare lo slime fallisco, però pazienza. E comunque, sono comunque personaggi molto carini. Mentre per quanto riguarda questi cutie tooties, sono davvero tenerissimi, mi piacciono un sacco questi personaggi in miniatura. E sono davvero bellissimi. Anzi, forse mi piacciono anche di più rispetto a quelli grandi, perché sono proprio teneri. E mi piacerebbe davvero collezionarli tutti, perché sono bellissimi. In ogni caso, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se li avete comprati, quali personaggi avete trovato. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Bene, adesso, passimi saluti! Se questo vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale e di passare anche nei miei profili Instagram, nei quali lascio nella descrizione il link. Vi ricordo anche di seguire la mia pagina di Facebook, che si chiama GiuliaGuarda03, nella quale lascio sempre nella descrizione il link. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!